Chiaramente per noi oggi è un giorno molto importante perché possiamo annunciare in maniera molto netta che finalmente a Roma saranno superati i campi rom. Abbiamo approvato un piano che ci consente di riportare Roma in Europa. Abbiamo appreso le migliori prassi, quelle che hanno funzionato, le portiamo a Roma per superare i campi. Iniziamo chiaramente con due campi che sono la barbuta e monachina e nel frattempo sugli altri campi saranno avviati dei progetti campo per campo insieme ai municipi e la cosa fondamentale è che le linee guida per il superamento dei campi rom che sono state approvate anche in Italia e che derivano appunto da una linea europea prevedono l'utilizzo di fondi europei. L'Italia ha avuto per anni a disposizione fondi europei che non ha mai utilizzato e ha continuato a spendere tra i 24 e i 30 milioni annui per mantenere in vita i campi. Noi andiamo a prendere le risorse europee e iniziamo col percorso di superamento che da anni Roma e l'Italia chiedevano. Ci siamo? Quindi chiaramente capite che siamo visibilmente soddisfatti. Tra l'altro in questo modo noi con questo piano mettiamo fine anche all'epoca dell'assistenzialismo. Non a caso uno dei primi atti della nostra amministrazione è stato quello di revocare i bandi che erano in corso e sostanzialmente fermiamo e abbiamo fermato la mangiatoia che per troppi anni c'è stata sui campi da parte della criminalità e di a capitale anche. È finita l'epoca dell'assistenzialismo dicevo. Il nodo, il cuore di questo piano è rappresentato da quello che viene definito il patto di responsabilità. Un patto che l'amministrazione stringe con tutti, con tutte le persone che abitano nei campi, famiglia per famiglia e in questo patto di responsabilità saranno chiariti bene i diritti e i doveri. I diritti e i doveri per superare i campi, per aderire a progetti di scolarizzazione, per aderire a progetti di lavoro, per aderire a progetti che prevedono l'inclusione. Questo è quello che prevede il piano, quindi un'adesione e un lavoro di collaborazione con le famiglie per superare i campi, ripeto, che prevedano diritti e doveri. Quindi non ci sarà più discriminazione su base etnica, ma su base volontaria si inizia un percorso di inclusione che consentirà nel più breve tempo possibile di superare questo scempio che sono i campi. Perché oltre al livello umanitario, condizioni degradate di vita, lo sappiamo tutti, rappresentano anche un enorme spreco di fondi pubblici. Tra l'altro per la supervisione e l'attuazione del piano sarà ricostituito e rinforzato l'ufficio ROM, questo ve lo annuncio, insomma nei prossimi giorni emetterò l'ordinanza che è appunto al vaglio in queste ore e quindi iniziamo da subito con provvedimenti concreti. Chiaramente per i dettagli passo la parola all'assessore Baldassarre e alla presidente di Commissione Catini. Mi preme ancora una cosa dire. Finalmente è finita l'epoca delle parole. Con questa amministrazione si passa ai fatti e il superamento dei campi ROM diventa realtà. Grazie.